Fa bene soprattutto a chi lo fa, sembra una frase fatta però in realtà è vero, cioè ti senti proprio meglio quando lo fai, la sera ti addormenti più tranquillo, più sereno. Conoscere da vicino alcune realtà del mondo del volontariato, è stato questo l'obiettivo del progetto di alternanza scuola-lavoro al quale hanno preso parte gli studenti del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo. Il progetto è intitolato Giovani Volontari Nazione, è finanziato dal CESVOT ma in parte anche con un contributo importante della regione e per noi rappresenta una specie di evoluzione perché mentre l'anno scorso la nostra iniziativa di delegazione era caratterizzata dalla presenza dei ragazzi delle elementari, quest'anno ci siamo evoluti e siamo passati agli ultimi anni del liceo scientifico. L'intendimento sostanzialmente è sempre quello, avvicinare i giovani al mondo del volontariato attraverso un interscambio che non è solo culturale di idee e di progetti ma è anche di attività pratica. Per i ragazzi del Redi è stata anche l'occasione per realizzare alcuni scatti assieme al fotografo Enrico Genovesi, raccontando così attraverso la fotografia la loro esperienza all'interno del mondo del volontariato. Vedere con i propri occhi quante persone al di là del proprio ambiente familiare o del proprio ambiente amicale hanno bisogno degli altri è importantissimo, forse proprio da qui si ricostruisce una società più solidale che tenga conto di tutti. Farlo attraverso la fotografia è straordinaria perché la fotografia blocca chi avrà l'occasione di sfogliare questo catalogo, blocca i sorrisi, la gioia ma blocca il dolore, blocca i bisogni degli altri e credo che ai ragazzi gli rimarrà questa esperienza come un graffo nell'anima. Le immagini sono raccolte sotto il titolo Obiettivo Volontariato e saranno presentate nel corso della festa finale del progetto del CES Vottarezzo, in programma per il 14 ottobre alla Casa dell'Energia.